Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi, questo è il secondo video su Farke 4 Però, nello scorso, ho mostrato una mappa che ho creato io Che c'è anche Pippo Ora, invece... C'è ancora Ora, invece, stiamo su campagna, in arena E l'altra volta ho provato a sfidearmi Ora, proverò a battaglia Ah, ecco, battaglia comuni, sì Round 1, decapitatore armata, ariete, guardia Va bene, dai, proviamo Proviamo un po' Proviamo un po' Ok, round 1 di 3 Siete pronti a vedere scorrere il sangue e a sentire urla Oddio, ci ho pagato Round 1 Ragazzi, non ho mai provato a sta modalità, ve lo dico Eh, battaglia Ballo, ragazzi Mamma mia 3 4 5 6 Oh, ragazzi 6 abbattimenti di seguito A catena, ragazzi Mamma mia E c'è il primo round, è finito benissimo, ragazzi Saluto di là, ciao Saluto, Filippo, saluto Filippo ci saluta Ciao, Filippo Colpa la testa, bene Oh, che cazzo Oh Sono tipo Capito cosa sono Ai 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 Ah, coltelli da lancio C'è un po' Ah, coltelli da lancio Eh, di esplodi, porca puzzola Ai 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 Sono morto, ricominciamo Dai dai Ricominciamo Fino all'andata 2 Però ci sono arrivato Eh, che c'è Andiamo là Che c'è Stanno già parlando Cioè I nemici Mi soffendono Di una cosa Tu madre Morite Mamma mia Ma no Ma stai zitto te Da vivi sezione Ma ne va Tu ma Cinghiala Ai 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 Stai coltelli Dai dai Ricaica Bene Rando 2 Dai raga Bastardi con le moto Bella raga Bella Sono tipo Dele Ma che si chiamano? Tassi del miele Ecco cosa sono Tassi del miele Ma avete rotto un po' Coglioni Sinceramente La latina Oh vedete se morite E morite E morite E mori No ma questo Tassi del miele Non muore più Ma 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 Cinghiala E muoiate Al coltello Ehi ma dai Sti tassi del miele E c'è due volte Che muoio per loro Mamma mia Però Dai Non si può eh No mamma mia Ma Non si può veramente Sti tassi del miele C'è due volte Mi fanno morire Mi troverete solo Nell'arena Preparatevi ad assistere Ai migliori combattimenti Dai dai Round 1 O te si è bugato Bene Fanno le danze Cos'è Oddio Ho fatto così Dalla distanza E' morto Ma Vabbè Meglio Ecco arriva Pippo Com'è Ma c'è due volte Che muoio per dettarsi Del miele E' del cavolo Ma perché fanno male Si fanno male Cioè rompono il proprio Vedi Ti fanno male Ma ti fanno male Solo quell'arma Si Ma non muoio neanche col fuoco Neanche col fuoco Lezzo Basta Mamma mia Ne posso più di questi tassi del miele Del cavolo Stai zitto Filippo Mi raccomando ragazzi Come ho detto Nello scorso video Hashtag 5 hashtag Come ho scritto Pippo torna con noi Filippo tornerà con noi Almeno così Ha detto La Luna si è svegliata Luna La mia La mia canina Eh Dio santo Però è un grattato alla porta L'uno Vai Vabbè Ricominciamo E c'è tre volte Comincio Ricomincio Mamma mia Bello Oh Ci mori Porca Bene Ah ma qui c'è una pistola Oh Non ho male Non ho due armi Questa è anche forte La di 50 è molto forte Ecco Ho tirato così E erano già morti Ma vai fancuffio No no Brutti tassi del miele Morite male Guarda Neanche con l'esplosivo Muoiono Ezzo Dai Sti tassi del miele Dio santo Mi fanno CAAA Sti tassi del miele Mi fanno CAAA Ora basta E' basta Basta Ora basta 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 Monite Mi fanno CAAA Ma mamma mia Sono ancora tutte e due vivi Ragazzi sono tutte e due vivi Non è possibile Non è possibile Mi fate CAAA Proprio Mi fate proprio schifo Ecco Guarda così Guardali 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 Non muoiono No ragazzi Io finisco qui Perché c'ho 10 minuti Che muoio Per questi stronzi di merda Di tassi del miele Qui sotto Hashtag Tassi del miele Mi fate CAAA Va bene Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre Iscrivetevi Commentate Condividete E lasciate un bel mi piace Ciao a tutti E al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.